A tutti buongiorno, il tempo prosegue soleggiato e affoso. Oggi avremo temperature massime verso i 33-34 gradi a ridosso dei rilievi prealpini e fino a circa 37 sulla bassa padana. In montagna qualche cumulo nel pomeriggio, però asciutto soltanto un raro piovasco sulle Alpi. Lo zero termico ha circa 4.800 metri di quota.